Ma io no, 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 io non lo voglio scaricare il barile, è matematico, è scientifico. Quanti ne abbiamo oggi? Eh, 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 no, no, ma non lo capire? Il 30 aprile è impossibile, siamo al 21, come si fa con un piano che è stato fatto? Tu, non sto scaricando, vorrei donarata. 31 agosto. Il 31 agosto noi ci rivedremo e troveremo insieme un'altra data. Si va avanti così in data in data fino al giugno 2026.